Il nuovo libro del professor Corrado Malanga Alieni o Demoni, sì Una riedizione di un precedente libro che già era uscito qualche anno fa che è stato aggiornato e è stato integrato di alcune parti Ci vuole dire, professore, cosa c'è di nuovo in questo libro? Dunque, a parte tutto l'aspetto grafico che rende il libro estremamente più leggibile perché prima era di 400 pagine e ora è diventato di 700 e passa pagine e dopo aver tolto la bibliografia e quindi è molto più leggibile abbiamo cambiato la grafica e abbiamo integrato alcune parti che riguardavano una cosa che si chiama memoria aliena attiva questo testo, che ha praticamente più di 13 anni di vita parlava dell'interferenza aliena su questo pianeta ad opera di signori che vengono da un'altra parte del cosmo e che usano gli esseri umani per ottenere determinati scopi in questo contesto questi esseri umani sono fatti oggetto quindi sono vittime sostanzialmente dell'alieno che viene qui per utilizzare qualcosa che l'uomo ha e che loro vogliono da questo punto di vista non tutto quello che è stato scritto e compreso 13 anni fa era ancora così quindi i nostri studi sono andati avanti e noi abbiamo dovuto fare delle integrazioni in particolare su quell'aspetto che si chiama memoria aliena attiva nel vecchio testo la memoria aliena attiva era ed è ancora in questo contesto una vera e propria entità aliena che entra all'interno del corpo dell'umano e lo utilizza una vera e propria entità aliena che non ha quindi corpo ma ha solamente parte spirituale e parte mentale questa parte porta con sé i ricordi della sua vita e porta con sé le sue esperienze il soggetto addotto ha sovente ricordi di esperienze che non sono le sue ma che sono quindi all'interno della sua mente le esperienze che ha fatto l'alieno questa parte di realtà che avevamo scritto in un libro in un modo non corretto è stata rivista e diciamo così riaggiornata morale della favola siamo alle soglie di questa nuova pubblicazione perché era necessario che chi non conoscesse questa fenomenologia o che chi ne avesse sentito parlare in modo non corretto avesse un vero e proprio manuale nel quale si descrive qual è la metodologia che abbiamo utilizzato per studiare questo fenomeno come poterla riprodurre su altri fenomeni su altri soggetti e soprattutto come riuscire a ottenere una tra virgolette liberazione del fenomeno alienologico da parte del povero disgraziato un alieno addotto terrestre che si trova a vivere una vita inconsapevolmente e incredibilmente piena di contrasti interni di ricordi che non gli appartengono utilizzato senza sapere perché e per come l'alieno abbiamo detto prima è un parassita e il parassita va eliminato perché non ci ha chiesto nessun permesso di utilizzare il nostro corpo la nostra energia e quant'altro era necessario che la nuova generazione di ragazzi soprattutto sapesse dell'esistenza di questa fenomenologia che è stata studiata da noi già tanto tempo fa come nessun altro nel mondo quindi noi abbiamo messo per la prima volta a punto il perché e il per come l'alieno viene su questo pianeta che sistemi usa per mettere il suo addotto in uno stato di coercizione inconsapevole e quindi è una, secondo il mio modesto punto di vista una pietra miliare che non trova riscontro in nessun'altra parte del mondo per quanto riguarda i ricercatori che hanno studiato questa fenomenologia noi ancora una volta come italiani arriviamo sicuramente prima di tanti altri studiosi anche molto più noti di noi che però sono arrivati fino a un certo punto a dire ma forse l'alieno cerca qualcosa di vitale che noi abbiamo e che loro non hanno questo qualcosa si chiama parte animica è la parte del femminile, del sé è la parte che non ha limiti per quanto riguarda il tempo e quindi è sostanzialmente da un punto di vista di fisica immortale l'alieno cosa fa? vuole l'immortalità e la cerca dentro di noi l'alieno ha paura di morire non sa che l'esperienza della morte va fatta perché è un'esperienza attraverso la quale si comprende che la morte in questo universo non esiste e noi che sappiamo tutto questo invece abbiamo quella parte dentro di noi la parte animica che è una grande fonte di energia è una grande fonte di sapere e ci mette in collegamento con il cosmo al prezzo da pagare che è l'esperienza della morte la parte animica è venuta qui per fare questa esperienza un'esperienza che si deve fare per comprendere che la morte non esiste l'alieno che non vuole morire che non vuole fare l'esperienza che non si vuole sporcare le mani in questo universo usa noi usa questa parte di noi per tentare di rivivere in eterno in qualche modo come probabilmente facevano anche gli antichi egizi gli antichi faraoni egizi che utilizzavano tecniche analoghe per poter procrastinare portare avanti la loro vita senza morire mai iscriviti al canale